Ciao a tutti ragazzi, volevo dirvi che io ci sono, basta, volevo anche dirvi se avete trascorso la Pasqua e Pasquetta bene, io l'ho trascorsa bene, tutto qui, io spero che voi capite che sono mancato, non preoccupate perché stasera alle 6 ci sarà un episodio di Fortnite, forse anche in compagnia di Nico, e ora non so se alle 6 o alle 7, vediamo, e va bene, io spero che capiate, spero che di rivederci, sicuro, e basta, dopo avervi detto tutto questo, ci si becca in un prossimo e nuovissimo, levissimo, bellissimo, video, ciao